Il Chievo porta a casa il primo successo stagionale, batte 2-1 a Ludminesi e lo aggancia, porta 4 punti in classifica. Prima vittoria stagionale, una splendida giornata per il Chievo. Sì, una splendida giornata, stravissuta, straviziata, senza tregua. Io sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno, sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. Ciao genitore 1, guarda come mi diverto, che bello è quando lo stadio è pieno e la musica riempie il cielo, è una libidine, è una rivoluzione. Pellissier è tornato al gol, ma com'è Pellissier fuori dal campo? Rispira piano per non fare rumore, si addormenta di sera, si risveglia col sole, è chiaro come l'alba, è fresco come l'aria. Diventa rosso se qualcuno lo guarda ed è fantastico quando è assorto nei suoi problemi, nei suoi pensieri. Si veste svogliatamente, non mette mai niente per farsi attirare attenzione, insomma un particolare solo per farsi guardare. Quando è assorto nei suoi problemi, nei suoi pensieri, con la faccia pulita, cammina per strada, mangiando una mela, con i libri di scuola. Gli piace studiare, non se ne deve vergognare, insomma. Qualche volta fa pensieri strani. E ci siamo fermati! Bravo Beppe, facciamo un applauso a Beppe! Grazie! Grazie!